Spiegazione teologica del Catechismo di San Pio X di padre Carlo Tommaso Dragone Parte prima 27 Per vivere secondo Dio che cosa dobbiamo fare? 28 Per vivere secondo Dio dobbiamo credere le verità rivelate da Lui e osservare i Suoi comandamenti con l'aiuto della Sua grazia che si ottiene mediante i sacramenti e l'orazione. In questa risposta è compendiato tutto il Catechismo. Per vivere secondo Dio dobbiamo credere le verità rivelate da Lui. Gesù disse ai Suoi Apostoli Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Chi non crederà sarà condannato. Dal Vangelo secondo Marco capitolo 16 versetti 15-16 Per vivere secondo Dio, cioè in maniera che la nostra vita sia conforme alla Divina Volontà, è necessario conoscere prima di tutto la Divina Volontà, i disegni e i voleri divini a nostro riguardo. Il Dio ci ha rivelato e fatto conoscere quale è la Sua volontà a nostro riguardo. Non ci chiede di capire tutte le verità rivelate per mezzo dei profeti e soprattutto del Figlio Suo fatto uomo. Molte verità compendiate nel credo o simbolo apostolico sono superiori alla capacità della nostra intelligenza. Pur non potendo comprenderle, dobbiamo crederle e ritenerle come assolutamente vere, perché rivelate dalla Somma Verità, che non si inganna e non ci può ingannare. Primo dovere e prima condizione per vivere secondo Dio è il credere, mediante la fede, alle verità rivelate. Senza la fede è impossibile piacere a Dio. Dalla lettera ai ebrei 11-6 La seconda condizione necessaria per vivere secondo Dio è l'osservanza dei divini comandamenti. Ecco avvicinargli si uno che gli disse Maestro buono, che farò io di bene per ottenere la vita eterna? Gesù gli rispose Se vuoi entrare nella vita eterna, osserva i comandamenti dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 19-17 Non basta la fede teorica senza le opere, perché la fede, se non ha le opere, è morta in se stessa, dalla lettera di San Giacomo 2-17 Ora, le opere necessarie alla salute ci sono prescritte dalla legge di Dio, la quale, a sua volta, scaturisce dalle verità della fede. La legge, rivelata da Dio, si riassume nei dieci comandamenti o decalogo Con l'aiuto della sua grazia che si ottiene mediante i sacramenti e l'orazione Ci dice Gesù Io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglierà via E quello che porta frutto lo poterà perché frutti di più Rimanete in me ed io in voi Come il tralcio non può da sé dare frutto se non resta congiunto alla vite Così neppure voi se non rimanete in me Io sono la vite, voi i tralci Chi rimane in me ed io in lui dà molti frutti Perché senza di me non potete fare nulla Se qualcuno non rimarrà in me Sarà gettato via come un tralcio che si dissecca Si raccoglie e si butta nel fuoco dove brucia Se rimanete in me e rimarranno in voi le mie parole Domandate qualunque cosa vorrete che vi sarà concessa Il padre mio sarà glorificato in questo Che portiate grande frutto e diventiate miei discepoli Come il padre ha amato me Così io ho amato voi Perseverate nell'amor mio Se osserverete i miei comandamenti Persevererete nell'amor mio Come io ho osservati i comandamenti di mio padre E rimango nel suo amore Vi ho detto questo Perché sia in voi la mia gioia E la vostra gioia sia piena Dal Vangelo secondo Giovanni Capitolo 15 Versetti da 1 a 12 Se non viviamo in Gesù Cristo mediante la grazia Non possiamo fare assolutamente nulla di bene Senza la grazia non possiamo nemmeno pronunciare il nome di Gesù con merito In ordine alla vita eterna Noi non possiamo nulla da noi stessi E' necessario E' necessario l'aiuto della grazia Il tralcio per vivere e per dare frutti deve essere unito alla vite La grazia di Dio si ottiene mediante i sacramenti Mezzi produttivi della grazia E mediante l'orazione Mezzo impetrativo Riflessione E' necessario ricordare esattamente e comprendere bene la presente risposta del catechismo Essa ci indica in pochissime escultore e parole qual è la via della salvezza che dobbiamo percorrere Esempi 1. Morte di Aristotele La ragione umana senza il lume della fede non può scoprire le verità riguardanti la vita eterna E l'umana volontà senza la grazia è assolutamente incapace di adempiere il divino volere osservando i comandamenti Si dice che Aristotele Il più grande maestro della filosofia pagana In punto di morte Abbia pronunciato queste parole Vissi nel dubbio Muoio nell'ambascia E non so dove vada O essere degli esseri Abbi pietà di me 2. Temere Dio Osservare i suoi comandamenti A Carlo Magno Uno dei più grandi imperatori della storia Erano morti una figlia e due figli Non restava che il figlio Luigi Che voleva associare al potere Un giorno gli disse Figlio caro a Dio A tuo padre E a questo popolo Tu che Dio mi ha lasciato Per mia consolazione Tu lo vedi La mia età si affretta Alla fine della vita La mia vecchiaia mi sfugge Il tempo della mia morte si avvicina Mi prometti di temere Dio Di osservare i suoi comandamenti Di proteggere la chiesa Luigi piangendo E a questo popolo Quanto gli chiedeva il padre Va dunque Riprese il padre Prendi la corona Che era sull'altare Ponila in capo E non dimenticare Le tue promesse Sia lodato Gesù Cristo E Ave Maria Grazie a tutti Grazie a tutti